con quello a Domenica Inn e vorrei Sandro Maier per Domenica Inn Grazie, direi ringrazio anche a nome di Gianni Boncompagni, Elena Gergo e tutto Marisa Laurito Certo Quanto a me, io sono direttore di gente come sapete per cui è stata un'esperienza veramente bellissima a passare dalla carta stampata alla televisione, è stato magnifico e speriamo di andare avanti Allora anche per Sandro Maier la passerella di Naxos Ed infine ancora E' un'esperienza di Naxos